Laudetur Iesus Christus, qui la Radio Vaticana, un cordiale saluto e una serena notte a tutti voi ascoltatori da Andrea De Angelis e Renato Martini. Continuiamo dunque a seguire in diretta il viaggio apostolico di Papa Francesco in Asia e Oceania, un viaggio che ha avuto inizio il 2 settembre, che si concluderà nella giornata di venerdì 13. Questa notte l'appuntamento è a Timor-Est, dove il Papa si trova da ieri. In questo momento sono le 9.50, ci troviamo nella città di Dili, in particolare alla Cattedrale dell'Immacolata Concezione. Le immagini ci mostrano una cattedrale Renato davvero strapiena, vediamo laici, vediamo religiosi, religiose. È un momento molto atteso in questo luogo di culto, che in realtà è un luogo di culto moderno, che si trova proprio nel cuore della città di Dili e che è stato consacrato nel 1989 da Giovanni Paolo II. Sì, effettivamente questo sarà lo scenario di questo incontro di Papa Francesco con i consacrati religiosi, religiosi, catechisti di questo paese che accoglie, il terzo paese che accoglie a Papa Francesco in questo viaggio, il più lungo del suo pontificato. Noi salutiamo tutti coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Vaticana, attraverso l'FM, ma anche in DAB, in streaming e su vaticanews.va. Un saluto anche agli amici di Radio Luce, San Benedetto del Tronto e Radio Condivisione Palermo. Sono le 2.51 di notte, come detto siamo in diretta con Timor-Leste, ringrazio tutto il settore tecnico che ci consente questa diretta, questa radiocronaca che ha una durata, Renato, di circa un'ora stimata con il Papa che dunque è in arrivo e con Papa Francesco che già ha iniziato questa giornata con un appuntamento molto significativo, possiamo dire emozionante, alla scuola per bambini con disabilità Irmas Alma, dove Francesco si è recato poco più di 30 minuti fa e appunto dista 4 chilometri dalla cattedrale. Sì, in questa istituzione educativa Papa Francesco ha incontrato un gruppo di bambini e anche alle suore che gestiscono questa scuola, sono le religiose missionarie di questa associazione che ha fondato, cujo acronimo è ALMA, che accoglie i bambini con problemi di nutrizione che è uno dei problemi molto forti in questo Paese. Vediamo ancora i volti delle religiose, non nascondono l'emozione, mancano pochi minuti davvero all'arrivo del Vescovo di Roma. Ad accoglierlo nel cortile attistante la cattedrale sarà il cardinale arcivescovo di Dillimo, signor Norberto do Amaral. Possiamo dire, Renato, che questo viaggio apostolico il più lungo del pontificato di Francesco ci sta mostrando, diciamo, dell'emozione dei bambini con disabilità, una serie di volti di chi è consapevole dell'importanza, della storicità di questo viaggio, di questi giorni. Soprattutto ci sta mostrando anche la varietà nei diversi paesi che ha visitato finora Papua Nova Guinea, anche abbiamo visto diversi ribolti, etnie, gruppi che hanno incontrato, come adesso anche vedremo sicuramente questi volti di cui è fatto la Chiesa in questa parte del mondo e soprattutto che rappresenta la storia di un popolo che anche cammina con la fede in cerca del Signore. Per dare un'idea a coloro che ci stanno seguendo in diretta, questo avvenimento che ci apprestiamo appunto a seguire coinvolge oltre 2000 persone, un dato stimato non ufficiale, 1500 si trovano all'esterno della cattedrale di Dili e sono circa 600 le persone all'interno. All'esterno in questo momento le immagini ci mostrano anche delle persone con disabilità, Renato. Sì, che aspettano Papa Francesco, sicuramente come il solito suo passerà a salutare loro con una benedizione, con una carezza e soprattutto a portarle la vicinanza. È un altro gesto che in questi giorni abbiamo visto di Papa Francesco, questa vicinanza del pastore della Chiesa Universale che si è arrecato alla periferia, in questo caso alla periferia dell'Asia. Ricordiamo a proposito di persone con disabilità, questa visita, lo dicevamo poc'anzi ai bambini con disabilità della scuola Irmaa Salma, il Papa ha pronunciato delle parole di saluto ai presenti, soprattutto di ringraziamento. In un passaggio Francesco ha detto, parlando in spagnolo, non possiamo comprendere l'amore di Dio se noi non pratichiamo l'amore di Dio. Le ha anche invitato a praticare le opere di misericordia, soprattutto quelle corporali, e citando quello che conosciamo nel Vangelo, mi avete visitato, mi avete accolto, mi avete ospitato, le ha proprio motivato a mettere in pratica l'amore di Cristo. E sentite gli applausi, in questo momento Papa Francesco fa il suo ingresso nella cattedrale, accanto a lui, come dicevamo, l'arcivescovo di Dili che è presidente della conferenza episcopale del Paese. Sentite un coro in questo momento che viene intonato dai presenti, si vedono anche alcune bandiere del Vaticano e sono tanti i cellulari, come spesso capita, che si alzano per immortalare questo momento. Dicevamo il dato stimato parla di 600 presenze all'interno di questa cattedrale che è stata consacrata, lo ricordiamo ancora una volta nel 1989 da Papa Giovanni Paolo II, la chiesa dove Francesco incontrerà e sta per incontrare vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati, seminaristi e catechisti, è una delle più grandi strutture del sud-est asiatico. All'ingresso una statua della Madonna, all'interno è austero, ma sono numerose le vetrate dai colori vivaci. Poi questa imponente cattedrale ha all'esterno un prato erboso e si accede appunto al luogo di culto attraverso un cancello che è sorvegliato dagli angeli con le trombe, i cosiddetti angeli trombettieri. Ma vediamo appunto che nella navata centrale il Papa lentamente sta procedendo, sono in tanti coloro che lo salutano, strette di mano, in questo momento anche uno scambio di parole, Renato con una religiosa. Sì, Papa Francesco continua salutando le diverse religiose che incontra per lui, è molto significativo alentare e motivare alle persone consacrate che stanno esercitando un lavoro missionario in queste terre. Dicevamo il Cardinale di Dili, Monsignor Norberto Duamarale, anche Presidente della Conferenza Episcopale di Timor-Este, una conferenza episcopale che è stata istituita da appena 12 anni, era il 2012, dunque una conferenza episcopale decisamente giovane, anche questo ci mostra un po', tu prima parlavi di periferie, il significato più profondo, la storicità di questo viaggio. Sì, è una caratteristica di questo viaggio che stiamo conoscendo, di queste realtà che Papa Francesco sta visitando, ma anche un altro aspetto importante è questo volto di una chiesa molto giovane, lo abbiamo visto in Papua, lo abbiamo visto in altri paesi e adesso lo vediamo, una chiesa giovane che ci parla di una conferenza episcopale di 12 anni, sono dei tempi delle chiese come questa cattedrale molto moderna, una chiesa che comincia a camminare, una chiesa che dopo tanto tempo comincia a ricevere in alcuni casi il primo annuncio del Vangelo. E mentre le lancette dell'orologio qui in Vaticano si avvicinano alle ore 3, ricordiamo che sono invece quasi le ore 10 del mattino a Timolest, noi siamo in diretta e ci apprestiamo a ascoltare le parole che il Papa pronuncerà, lo ricordiamo è il secondo appuntamento del giorno per il Vescovo di Roma che si è recato poco fa in visita ai bambini con disabilità nella scuola Irmas Alma e da pochi istanti il Papa ha fatto il suo ingresso nella cattedrale dell'Immacolata Concezione. Dicevamo circa 2000 i presenti, 600 all'interno, circa il triplo all'esterno e ascoltiamo questo coro ma il Papa è praticamente arrivato all'altare ancora delle religiose, vedete che vogliono salutare il Vescovo di Roma, avevi ragione Renato, i sorrisi non mancano e prevalgono anche sull'emozione. Sì, sono molto emozionate le religiose, vediamo diverse congregazioni presenti in questo Paese soprattutto realizzando diverse opere sia sociali, caritative, educative e sanitarie. Il Papa ha salutato anche delle persone che si trovano in primissima fila, delle persone con disabilità e si appresta appunto a salire in questo momento sull'altare ma ancora un dialogo, un breve dialogo con una religiosa. Un'altra caratteristica di questa Chiesa in Timor orientale, in Timores, è che vediamo molti volti di un clero, di una vita religiosa propria del Paese e i volti dei primi missionari soprattutto europei comincia a sparire, vediamo molti sacerdoti già un po' anziani diciamo però la maggior parte delle religiose, dei sacerdoti sono del clero diocesano, del clero autottono possiamo dire. Il dialogo con questa religiosa si prolunga probabilmente anche più di quanto noi potessimo prevedere, vediamo che però non manca ancora una volta da parte del Papa l'attenzione anche ed ecco in questo momento la stretta di mano e quasi un abbraccio tra i due. Ecco alcuni sacerdoti invece che si trovano sulla sedia a rotelle appunto in prima fila nella cattedrale, intanto il canto come potete sentire è terminato e questo ci indica che tra poco avrà inizio l'incontro che avrà come primo momento il saluto di benvenuto del Presidente della Conferenza Episcopale. Poi Renato ascolteremo una serie di testimonianze in particolare quella di una suora, ancora la testimonianza di un sacerdote e ancora quella di un catechista. precederanno appunto il discorso del Papa. Tutto questo mentre in Vaticano e per chi ci segue dall'Italia in Italia sono le 3 e 2 minuti, le 10 e 2 minuti invece a Timor-Leste dove da ieri il Santo Padre si trova per quella che è la terza tappa del suo viaggio apostolico e che lo ha visto già in Indonesia e in Papua Nuova Guinea e che lo vedrà infine a Singapore. L'applauso che accompagna appunto l'arrivo del Papa e adesso il Santo Padre è davvero visibile per tutti coloro che si trovano in cattedrale. Sentiamo l'applauso. Sì Andrea hai segnalato un aspetto importante che sarà la testimonianza di un catechista. Ricordiamo questa chiesa, la chiesa in Timor-Leste, è anche fatta dell'annuncio del lavoro missionario dei catechisti che sono i primi annunciatori del Vangelo in queste terre. I presenti sono tutti in piedi. Ancora un applauso perché il Papa rivolge loro un cenno di saluto in questo momento. E ci apprestiamo allora ad ascoltare le parole di Sua Eccellenza Monsignor Norberto D'Amaral che è cattedrale di Dili e presidente della conferenza episcopale locale. di Dili e presidente della conferenza episcopale timorense. Stanno annunciando la presenza e l'intervento del presidente della conferenza episcopale timoreleste. Amato Santo Padre e con grande gioia e onore che la accogliamo tra noi qui in questa cattedrale che è la madre di tutte le chiese di Timoreleste, una cattedrale il cui ricordo c'è tanto caro perché il suo predecessore, Papa San Giovanni Paolo II nel viaggio apostolico del 1989 durante i tempi difficili in cui la nazione era soggiogata compì il lieto gesto di benedirla. Dopo tanti anni di sofferenza abbiamo recuperato la nazione che è riuscita a rialzarsi e a restare in piedi rinascendo dalle ceneri della distruzione nel secondo millennio della nostra storia. Una nazione nuova è piccola, solo 14.874 chilometri quadrati, con una popolazione di 1.340.000 abitanti. Una comunità cattolica di oltre 1.300.000 fedeli, quasi il 98% della popolazione e una gioventù in crescita. Timoreleste è una nazione con il maggior percentuale, la maggior percentuale di cattolici in Asia e si potrebbe dire nel mondo. Si trova nell'estremo oriente. Quando sua santità fu eletto Papa, disse di sé che i cardinali lo chiamarono dalla periferia del mondo. Ecco qui una nazione che si trova alla periferia del mondo. E si potrebbe dire agli estremi confini della terra. Qui è chiamata ad essere sale e luce. E quando Santità, in occasione della nostra prima visita a Limina, ci ha detto che la vostra fede sia la vostra cultura, abbiamo custodito queste parole per rafforzare questo appello. Eccole come motto della visita di Sua Santità a Timoreste. Santo Padre, 35 anni dopo la visita di San Giovanni Paolo II, ecco di nuovo il Vicario di Cristo tra noi, per confortarci e confermare la nostra fede. Sono qui il clero, i religiosi e le religiose, i seminaristi catechisti e alcuni laici di tutto Timoreste, che con entusiasmo la ricevono e la accolgono. E con cuore sincero sono pronti ad ascoltare le parole di Sua Santità. Che sia un momento di preghiero, di ascolto e di benedizione, quello che Sua Santità desidera trasmetterci. Così sia. Offerimento di una lembranza a Sua Santità. A continuazione le presentano un dono al Papa Francesco in ricordo della sua visita e soprattutto di questo incontro con il clero e i consacrati. Stanno dicendo che questo incontro si centra nel contesto della sinodalità ed è la Chiesa di Timoreste che si apre a questo percorso, a questo cammino sinodale. che si è messo in cammino per dare testimonianza della gioia del Vangelo. Adesso sentiremo il testimonio di una religiosa, di una suora della congregazione delle figlie della Carità. Santità, in questo prezioso momento di grazia, vorrei presentarmi come suora senior della congregazione delle figlie della Carità Canossiane di Santa Maddalena di Canossa. Sono timorese frutto della lunga attività missionaria delle suore Canossiane che seguendo le orme dei missionari e di San Francesco Saverio, il missionario per eccellenza dell'Oriente, sono giunte a Timor alla fine del XIX secolo e sono ancora oggi molto presenti nella formazione religiosa e umana delle donne e delle giovani timoresi. Timoreste è il paese più cattolico del sud-est asiatico ed è anche un'oasi di vocazioni sacerdotali e religiose. Ci sono molti religiosi e religiose di diverse congregazioni che per non lasciare appassire i semi della vocazione sono venuti a raccoglierli per portare molto frutto vocazionale e grazie a Dio Timoreste ha inviato religiosi e religiose ad aiutare altre regioni del mondo. Siamo un paese giovane nato alle soglie del XXI secolo ma anche un territorio benedetto in cui la maggior parte della popolazione è costituita da adolescenti e giovani. Pertanto il futuro della Chiesa e della Nazione è radioso e promettente ed esige da noi l'apertura ad ogni tipo di sfida per costruire una comunità sinodale di comunione e missione e per consolidare le idee della fraternità umana che si stanno mettendo in pratica nella nostra amata terra. Davanti a Sua Santità accogliamo l'occasione per chiedere la Sua speciale benedizione sui nostri bambini adolescenti giovani, uomini, donne anziani e in particolare sui disabili che sono tanti. In passato i missionari venivano dall'Europa per evangelizzare Timore ma oggi sta accadendo il contrario Timore va ad evangelizzare l'Europa e altre parti del mondo. A nome dei missionari, dei religiosi delle religiose e dei catechisti vorrei ringraziarla di cuore per il fatto che sia venuto in mezzo a noi quale chiese in uscita per visitarci da vicino. Grazie mille, Santità. Così Suor Rosa Sarmento Adesso sentiremo la testimonianza di un sacerdote un sacerdote diocesano della diocesi del Sacro Cuore di Gesù di Timor-Leste e di un sacerdote diocesano di Sessano 68 anni e 39 di sacerdozio. Per quanto riguarda il mio coinvolgimento nel processo di indipendenza di Timoreste, il mio contributo è stato molto semplice e breve. La mia semplice esperienza ma di grande importanza è stata quella di aiutare il comandante in capo Kairala Shanana Gusmau a spostarsi da Dili a Osso nel giugno 1991. Si stava per celebrare una messa a Dili alla quale partecipavano anche i sacerdoti delle parrocchie dell'interno. Prima della messa una scorta del comandante si presentò con una richiesta dicendo «Padre, ma un bot, cioè Shanana, ha davvero bisogno di andare nella zona est. Non c'è altro modo né altra persona che lei, padre». Sentendo questo sono rimasto confuso e volevo rifiutarmi, ma siccome era già l'ora della messa, ho detto alla scorta di aspettare per trovare un accordo. Sono andato a celebrare la messa e ho pregato chiedendo luce, discernimento e coraggio. Dopo la messa, poiché la scorta mi stava ancora aspettando, decisi di andare a incontrare il comandante Shanana e iniziare il viaggio verso Osso. Siamo partiti da Dili verso mezzogiorno. «Quasi tutto è andato bene durante il percorso. C'è stato solo un piccolo contrattempo quando sulle pendici della salita di Subao i militari indonesiani ci hanno fatto segno per fermarci. Allora il comandante Shanana ha detto «Padre, questa volta non ce la faremo». «A questo punto, poiché indossavo l'abito talare, ho abbassato il finestrino dell'auto con il braccio sinistro in fuori, il volto imbronciato e poco amichevole, e ho chiesto ad Aapa, cioè «Perché ci avete fermato?». Ma quando i soldati hanno capito che si trattava di un sacerdote ci hanno lasciato passare. Così la talare come indumento dell'identità sacerdotale ci ha salvato dal pericolo. Arrivati a Osso la sera di quello stesso giorno, il comandante Shanana e i suoi collaboratori partirono subito per lavorare con i compagni nella foresta. «Questa è la lezione che ho imparato come sacerdote, attraverso le tante esperienze difficili della guerra. Dio sa come prendersi cura di coloro che ha chiamato e mandato in missione. E oggi posso essere qui a dare la mia testimonianza di vita, perché Dio mi ama e si prende cura di me». Grazie per l'attenzione. Padre Sancio ha dato testimonianza dell'identità sacerdotale e come ha vissuto in questi 39 anni di vita sacerdotali. Soprattutto in un contesto di guerra in cui ha vissuto questo sacerdote Dioce sano. E abbiamo visto il sacerdote che ha baciato le mani del Santo Padre e il Papa che ha voluto a sua volta baciare le mani di questo sacerdote. Adesso ascoltiamo un canto. Tra l'altro possiamo dire a coloro che ci stanno seguendo che il Papa durante il suo ingresso in cantedrale, tra i tanti e le tante che ha avuto modo di salutare. Ha salutato Francesco anche una canossiana di quasi cento anni di età. Sì, è una religiosa che anche una sorella sua ha dato la testimonianza, son Rosa, che ha parlato soprattutto delle caratteristiche proprie della Chiesa in Timor-Lez. Una Chiesa che vante il 98% dei cattolici di questo Paese, una Chiesa abbastanza giovane. Sentiamo questo canto che hanno preparato per questo incontro. Grazie a tutti. In questo quinto momento dell'incontro ci sarà la testimonianza di un catechista, il signor Florentino della parrocchia dell'Archidiocesi di Dilli. Anche il ruolo dei laici in questa Chiesa abbastanza giovane è molto importante nella evangelizzazione del Paese. E sono tanti i volti dei giovani anche oggi, all'esterno e all'interno della cattedrale, come facevi notare giustamente Renato. Santità Papa Francesco, sono Florentino de Jesus Martins, catechista della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, Ermera. Sono nato il 21 febbraio 1935 e ora ho 89 anni di età. Sono originario di Ermera, Timoreste. Ho studiato presso la scuola Luno Alvarez Pereira di Soibada, dal 1952 al 1955. Nel 1956 il reverendissimo padre Ezechiel mi ha nominato catechista volontario presso la missione cattolica di Ermera. Come catechista volontario ho iniziato a catechizzare i catecumeni nella Chiesa di Ermera, includendo le stazioni della missione, cioè Atolia, Letefo, Assabe, Railaco e Fatubessi. Dopo aver lavorato come catechista volontario per sei anni, nel 1962 fui nominato catechista permanente per la diocesi di Dili dal reverendissimo vescovo Monsignor Jaime Garcia Goulart e veni assegnato alla missione cattolica di Ermera. Come catechista permanente avevo diritto a uno stipendio mensile pagato dalla diocesi. Dopo la mia nomina ho continuato a fare catechesi in Chiesa, nelle stazioni della missione e nei sucos. ho preparato i catecumeni al battesimo e alla prima comunione. A quel tempo non c'erano ancora i mezzi di trasporto moderni. Spesso dovevo camminare a piedi tra i 6 e i 10 chilometri per fare catechesi. a volte affrontavo sfide come pioggia, vento forte o il pernottamento durante il viaggio. Nonostante le sfide non mi sono mai scoraggiato e ho continuato a lavorare con la più grande responsabilità, zelo e dedizione. ho sempre il desiderio di servire la Chiesa ma come essere umano ho dei limiti. a causa della mia età e delle mie condizioni di salute soffro di Parkinson. ho dovuto ritirarmi nel 2017 all'età di 82 anni ma continuo a dare consigli e sostegno morale agli altri catechisti che hanno bisogno del mio supporto. è stato un grande motivo di orgoglio e sono enormemente grato a Dio e alla Madonna per avermi concesso una lunga vita e per aver partecipato all'evangelizzazione come catechista attivo per un periodo di 56 anni di servizio. la maggior parte del mio lavoro è stato svolto volontariamente e Dio mi ha ricompensato con una lunga vita e con la felicità della mia famiglia. grazie di cuore. Una bella testimonianza del signor Florentino che a più di 80 anni ha lavorato come catechista in diverse circostanze e poi anche continua offrendo i consigli ai nuovi catechisti dopo che si è ritirato di questo lavoro che faceva nella parrocchia della Diocesi di Vili. Il Papa salutando questo catechista di 89 anni ha fatto un cenno a tutti i presenti che stavano applaudendo e ha detto sembra che questo riferito a questo anziano signore ha fatto la concorrenza a San Paolo Apostolo. Non male per chi ha detto di essere orgoglioso e grato a Dio di aver servito la Chiesa, Renato. Sì, la testimonianza del signor Florentino che Papa Francesco ha risaltato e messo in evidenza. Adesso ci apprestiamo ad ascoltare le parole del Santo Padre e il suo discorso nell'incontro con i Vescovi, i Sacerdoti, i Consacrati, i Seminaristi e i Catechisti a Timor-Leste, nella Cattedrale di Dili. Cari Fratelli Vescovi, cari Sacerdoti e Diaconi, religiose e religiosi seminaristi, cari catechisti, fratelli e sorelle tutti. Buongiorno. Molti dei più giovani sono rimasti fuori. Ho chiesto al Vescovo di fare la Cattedrale più grande. E' veramente questa una grazia per tante vocazioni. Ringraziamo il Signore. Ringraziamo anche i missionari che hanno lavorato qui. Come abbiamo visto, questo uomo che è stato catechista tutta la vita. Possiamo capire. Ringraziamo al Signore questa benedizione di essere catechista. Sono felice di trovarmi qui in mezzo a voi nel contesto di un viaggio che mi vede più come pellegrino nelle terre di Oriente. Ringrazio Monsignor Norberto de Amaral per le parole che mi ha rivolto ricordando che Timorès è un paese ai confini del mondo. e giustamente siamo ai confini del mondo e voi più di me. E mi piace dire proprio perché ai confini del mondo si trova al centro del Vangelo. e questo è un paragone che dobbiamo imparare nel Vangelo i confini sono il centro. Una Chiesa che non ha questa capacità che si nasconde nel centro è una Chiesa malata. invece quando una Chiesa pensa fuori in via missionari si mette nei confini è una Chiesa che si mette al centro è il centro della Chiesa. grazie per essere nei confini perché sappiamo bene che nel cuore di Cristo le periferie dell'esistenza sono il centro. Il Vangelo è popolato da persone che si trovano ai margini ai confini ma vengono convocate da Gesù e diventano protagonisti dell'esperanza che Egli è venuto a portare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gioisco con voi e per voi perché siete discepoli del Signore in questa terra. Pensando alle vostre fatiche alle sfide che siete chiamati a affrontare mi è ritornato in mente un brano del Vangelo di Giovanni molto suggestivo che ci racconta una scena di tenerezza e di intimità accaduta nella casa degli amici di Gesù Lazzaro, Marta e Maria. a un certo punto durante la cena Maria prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso ne corparsi i piedi di Gesù poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Maria unge i piedi di Gesù e quel profumo si diffonde nella casa. Vorrei soffermarmi con voi proprio su questo il profumo il profumo di Cristo il profumo del suo Vangelo è un dono che voi abbiate un dono che avete ricevuto gratuitamente però che dovete custodire e tutti siamo chiamati a diffondere custodire il profumo custodire questo dono del Vangelo che il Signore ha dato a questa terra di Timor-Lez e diffondere il profumo prima custodire il profumo abbiamo sempre bisogno di tornare all'origine del dono ricevuto il profumo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo stati unti con l'olio di Letizia e l'Apostolo Paolo scrive, noi siamo infatti, dinanzi a Dio, il profumo di Cristo. Cari fratelli, cari sorelle, voi siete il profumo di Cristo. E questo simbolo a voi non è stranio, qui a Timor, infatti cresce in abbondanza il legno di Sandalo, con la sua fraganza molto apprezzata e ricercata anche da altri popoli e nazioni. La Bibbia stessa ne loda il valore quando racconta che la regina di Saba fece visita al re Salomone offrendogli in dono il legno di Sandalo. Non so se la regina di Saba, prima di andare al re Salomone, ha fatto scalo qui a Timorles per prendere il Sandalo. Grazie a tutti. 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 Anche voi siete discepoli, missionari, profumati di Spirito Santo per inebriare la vita del Santo Popolo fedele di Dio. Grazie a tutti. 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 Mi hanno tolto la voce. Mi hanno tolto la voce, dice il Papa. E aggiungo un'altra cosa. Noi guardiamo con gratitudine alla storia che ci ha preceduto, al seme della fede c'è dato qui dai missionari. Questi tre che ci hanno parlato, questa religiosa che tutta la sua vita consagrata l'ha realizzata qui. E' quel sacerdote che ha saputo accompagnare il suo popolo in momenti difficili della invasione straniera. E' quel diacono che non si è paralizzato la voca per annunciare il Vangelo e battesare. Pensiamo in questi tre modelli che siano rappresentativi della storia della Chiesa. Amiamo la nostra storia. E' il seme sparso qui. In loro, alle scuole di formazione, però questo può bastare. In realtà, sempre dobbiamo alimentare la fiamma della fede. Pertanto vorrei dirvi, non trascurate di approfondire la dottrina cristiana. Non lasciate di madurare nella formazione spirituale, catechetica e teologica. Perché tutto questo serve ad annunciare il Vangelo nella vostra cultura. E nello stesso tempo a purificarla da forme arcaiche e talvolta superstiziosi. La predica della fede si deve inculturare nella vostra cultura. E la vostra cultura deve essere evangelizzatrice. E questo vale per tutti i popoli, non solo per voi. Se una Chiesa è incapace di inculturare la fede, che è incapace di esprimere la fede nei valori propri della Terra, sarà una Chiesa elicista e senza futuro. Ci sono tante cose belle nella vostra cultura. Penso specialmente alla fede nella risurrezione e nella presenza delle anime dei defunti. Però tutto questo va sempre purificato alla luce del Vangelo, alla luce della dottrina della Chiesa. Impegnatevi in questo, per favore, perché ogni cultura e ogni gruppo sociale necessita di purificazione, ha bisogno di maturazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. la formazione spirituale, catechica e non teologica. La formazione spirituale, catechica e non teologica. E adesso vediamo il secondo aspetto, diffondere il profumo. La Chiesa esiste per evangelizzare e noi siamo chiamati a portare agli altri il dolce profumo della vita, della vita nuova del Vangelo. Maria di Betania non usava il nardo prezioso per avvelire se stessa, ma per ungere i piedi di Gesù e così espargere l'aroma in tutta la casa. Anzi, il Vangelo di Marco specifica che Maria, per ungere Gesù, rompe il vasetto di alabastro che contiene l'ungento profumato. L'evangelizzazione avviene quando abbiamo il coraggio di rompere il vaso che contiene il profumo, rompere il guscio che spesso ci chiude in noi stessi e uscire da una religiosità pigra, mediocre, comoda, Vissuta soltanto per un bisogno personale. E mi è piaciuto molto l'espressione che ha usato Rosa. Mi è piaciuto molto quando ha detto una Chiesa in movimento, una Chiesa che non si ferma, che non ruota intorno a se stessa, ma che brucia a causa della passione di portare a tutti la gioia del Vangelo. L'evangelizzazione avviene quando ha detto una Chiesa che non ruota intorno a se stessa, e la chiesa che non ruota intorno a se stessa, ma che non ruota intorno a se stessa, ma che non ruota intorno a se stessa, e la chiesa che non ruota intorno a se stessa, ma 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 una lunga storia cristiana, avvissono oggi di un rinnovato slancio nell'evangelizzazione. Perché a tutti arrivi il profumo del Vangelo, un profumo di riconciliazione e di pace dopo gli anni sofferenti della guerra, un profumo di compassione che aiuti i poveri a rialzarsi e susciti l'impegno per risolvere le sorti economiche e sociali del Paese, un profumo di giustizia contro la corruzione. E state attenti, molte volte la corruzione può entrare nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie. E in modo particolare il profumo del Vangelo bisogna diffonderlo contro tutto ciò che umilia, contro tutto ciò che deturpa e addirittura distrugge la vita umana, contro quelle piaghe che generano vuoto interiore e sofferenza, come l'alcolismo, la violenza, la mancanza di rispetto per la dignità delle donne. Il Vangelo di Gesù ha la forza di trasformare queste realtà oscure e di generare una società nuova. E il messaggio che voi religiose date di fronte a questa mancanza di rispetto delle donne è che le donne sono lo più importante nella Chiesa perché si prendono cura dei più bisognosi. Li curano, li accompagnano. Sono appena stato, ho fatto la visita in quella bella casa di cura dei più poveri, dei più bisognosi, sorelle. Dovete essere madri del popolo di Dio. Dovete creare comunità. Siate madri. È quello che vuole Dio di voi. Dio. 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 farvi sentire superiori al popolo. Voi venite del popolo, voi nascite, siete nati di donne del popolo, crescete nel popolo, non dimenticate la cultura del popolo che avete ricevuto, non siete superiori. Neanche vi deve condurre alla tentazione della supervia del potere. E sapete come comincia questa tentazione del potere? Avete capito, eh? Mia nonna diceva, il diavolo entra sempre per le tasche. Da qui entra il diavolo, sempre dalle tasche. Per favore, non pensate che nel ministero è un prestigio sociale. Il ministero è un servizio. E se qualcuno di voi non si sente servitore del popolo, deve andare a chiedere un consiglio a un saggio sacerdote per essere aiutato ad avere questa dimensione molto importante. Doven Sira, ita precisa impulso e usi evangelio ne. No tamba ne, ita precisa, na ilulic Sira, consagrados, consagrada Sira, no catequista Sira, neve e a paixão, preparados, no creativos. Sira, il ministro è un servizio. E se qualcuno di voi non si sente, 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 non si sente. Non si sente, non si sente, non si sente, non si sente. Ma be' ida né, la be' le ha lo emi ha qui accentimento, superioridade e relazão ro'povo. O di lori emi va' tentação, va' orgulho no poder. Título né, la be' le ha lo emi hanouen kata, ministério né e prestigio social ida. O di ha lo emi sai anessa, chefe bot siranebè, domina emacelo. Ricordiamo questo, col profumo si deve ungere i piedi di Cristo, che sono i piedi dei nostri fratelli nella fede, a partire dai più poveri. I più privilegiati sono i più poveri, e con questo profumo dobbiamo custodirli. E' eloquente il gesto che qui i fedeli compiono quando incontrano voi, sacerdoti. Prendono la vostra mano consacrata e l'avvicinano alla vostra fronte come segno di benedizione. E' bello cogliere in questo segno l'affetto del popolo santo di Dio, perché il prete è uno strumento di benedizione. Mai, mai, mai il sacerdote deve approfittare del ruolo. Sempre deve benedire, consolare, essere ministro di compassione è segno della misericordia di Dio. Forse il segno di tutto questo è il prete povero. Amate la povertà come la vostra sposa. Amate la vostra sposa. Amate la vostra sposa. Cari fratelli, un diplomatico portoghese del 1500, Tomé Pires, ha scritto così. I mercanti malessi dicono che Dio creò timor per il legno di sandalo. Noi però sappiamo che c'è un altro profumo, a quello del sandalo c'è un altro, quello di Cristo, il profumo del Vangelo, che arricchisce la vita e la riempie di gioia. Voi sacerdoti, diaconi, religiose, non scoraggiatevi. Come ci ha ricordato Padre Sancio nella sua toccante testimonianza. Dio sa come prendersi cura di coloro che ha chiamato e inviato nella sua missione. Nei momenti di difficoltà, pensate in questo. Lui ci accompagna. Lasciamoci accompagnare dal Signore. Con spirito di povertà e con spirito di servizio. Vi benedico di cuore. E vi chiedo per favore di non dimenticarsi di pregare per me. Però pregate a favore, non incontro. Grazie. Grazie a tutti. E anche vorrei finire con un grazie, un grazie grande per i vostri anziani, anziani preti che hanno spesso la vita qui, anziani suori che sono qui, che sono brave, che hanno spento la vita. Loro sono il nostro modello. Grazie e grazie. Per concludere questo incontro si invita tutti i partecipanti a una preghiera conclusiva. In questo momento si alzano tutti in piedi e preghiamo anche noi insieme al Papa i presenti. Grazie. 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 da quello che era il testo che aveva nelle mani, i fogli, nelle mani del Santo Padre e, come si suol dire, andare a braccio in particolare quando Renato si è rivolto ai sacerdoti, alle religiose e poi, per chi ci sta seguendo solo in radiocronaca e non vede le immagini, quando il Papa, in italiano, dopo aver pronunciato un discorso in spagnolo, ha detto un grande, grande grazie, il secondo grande si è sentito meno, non perché c'è stato un problema di audio ma perché il Papa ha allargato le braccia come a indicare la vastità della sua gratitudine verso gli anziani sacerdoti e le anziane religiose presenti ha detto loro siete un modello e soprattutto ha sottolineato che loro sono un modello perché hanno spesso la vita nell'evangelizzazione di questo paese un punto importante di questo discorso è stato anche l'aspetto dell'identità dei sacerdoti che, secondo la tradizione del popolo di Timor-Leste, sono considerati come grandi personaggi sono i signori ma il Papa le ha advertito di non avere questo privilegio il privilegio del sacerdote, ha detto, deve essere il servizio e la carità sono state parole queste certamente che hanno risuonato non solo al Timor-Leste, Renato ma ovunque e anche qui in Vaticano e in Italia per chi ci sta seguendo in questo momento dallo stivale va detto che il Papa, tu giustamente hai usato la parola servizio in riferimento ai sacerdoti ha pronunciato con forza altre due parole, la parola povertà e poi ancora le periferie all'inizio del discorso quando ha detto non dobbiamo sbagliare il centro il centro non è il centro ma sono le periferie il centro è una chiesa che non ha, scusate la ripetizione questo centro è una chiesa malata si, ha detto il Papa Francesco una chiesa che si nasconde nel centro è una chiesa che non ha futuro qua vediamo dietro queste parole del Papa Francesco sicuramente Evangelii Gaudium e tutto il suo messaggio del suo pontificato di essere una chiesa in uscita andare non al centro, andare alle periferie e Papa Francesco l'ha fatto soprattutto manifestando la sua vicinanza a questi sacerdoti, missionari, religiose soprattutto a questa chiesa molto giovane come abbiamo già segnalato all'inizio della trasmissione tra pochi minuti si concluderà dunque questa radiocronaca il Papa sta per lasciare la cattedrale dell'Immacolata Concezione che lo ricordiamo si trova nel centro di Dili è una struttura moderna che è stata consacrata da Papa Giovanni Paolo II ed è stato ricordato durante gli interventi pensate solo nel 1989 una cattedrale che oggi ha ospitato circa 600 persone sono, è un numero stimato, circa il triplo quelle all'esterno il Papa ha avuto modo di salutare tanti giovani laici tante religiose tra cui abbiamo anche avuto modo di vedere una canossiana di 100 anni, quasi 100 anni di età e i tantissimi sacerdoti presenti io però vorrei ancora tornare con Terenato su quel passaggio dei preti e delle suore modello perché veramente il Papa lo ha pronunciato all'ultimo al termine possiamo dire del discorso in italiano e non più in spagnolo quasi come se arrivassero dal cuore quelle parole sì, le sono uscite proprio dal cuore vedendo in prima fila a questi anziani sacerdoti a queste anziane religiose che hanno partecipato in questo incontro Papa Francesco stesso ha allungato le braccia dicendo un grande grazie a voi che avete spesso la vita nell'evangelizzazione di questo paese e ha invitato ai giovani sacerdoti e alle giovani religiose a proprio vedere in loro un modello di vita poi qua si inserisce quel filo che ha guidato tutto il discorso del Papa Francesco che è quel filo che si centra nel relato biblico della unzione di Betania l'unzione di Gesù in Betania nella casa di Lazzaro, Marta e Maria il punto centrale è il profumo poi facendo un paragone con il sandalo che è un prodotto naturale tradizionale di Timor-Less Papa Francesco ha sviluppato tutto la sua riflessione con questa metafora e ha invitato soprattutto ai sacerdoti religiose a diffondere il profumo più valioso che è il profumo di Cristo e del Vangelo e in qualche passaggio anche ha paragonato il profumo più caro, più costoso di quei profumi francesi ha detto improvvisando abbraccio Papa Francesco e anche l'orario ci indica quanto sia stato importante per il Vescovo di Roma questo incontro perché era prevista la conclusione intorno alle 3.30 ora Vaticana le 10.30 ora locale invece sono le 4.10 qui in Vaticano le 11.10 a Timor-Este ricordiamo che il Papa tra poco si recherà presso l'Annunziatura Apostolica dove avrà un incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù ma stiamo assistendo in questo momento Renato alla benedizione di alcune delle prime pietre provenienti dalle tre diocesi di Timor-Este abbiamo ricordato questa conferenza episcopale nata appena 12 anni fa noi ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito in questa radiocronaca e vi diamo appuntamento alle prossime dirette da Andrea De Angelis e Renato Martini è davvero tutto laudetur Jesus Christus grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.